In secondo grado l'istruttoria era stata riaperta anche per sentire uno degli ex vertici di Cosa Nostra locale, Rosario Trubbia, i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Catania. Ieri hanno emesso tre condanne per l'omicidio di crocifisso Sartania, ucciso nelle campagne di Acate nel Ragusano. La condanna di primo grado a dieci anni di reclusione è stata confermata per Orazio Rolletto. Dieci anni sono stati disposti con il riconoscimento delle attenuanti anche per altri due imputati, Cristoforo Palmieri e Carmelo Curva. In primo grado il gruppo del Tribunale di Ragusa, in abbreviato, ne aveva disposto l'assoluzione ma quella decisione è stata impugnata dalla procura. Il procuratore generale, nelle richieste di appello, aveva indicato 30 anni di detenzione per Palmieri e 18 per Curva, ritenuti coinvolti nell'omicidio. È stata invece confermata l'assoluzione di un quarto coinvolto, Carmelo Palmieri, così come è già deciso dal gruppo ragusano. Quello di Sartania fu un omicidio ricostruito ad anni di distanza, anzitutto sulla base delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. Si sarebbe trattato di una sorta di spedizione punitiva per atteggiamenti violenti che pare la vittima avesse assunto ai danni della compagna. Il corpo fu poi dato alle fiamme in un'area rurale, in territorio di Acate, per gli investigatori, però tutto sarebbe maturato negli ambienti gelesi. Le difese, sostenute dagli avvocati Antonio Gagliano, Cristina Alfieri e Flavio Sinatra, in entrambi i gradi di giudizio, hanno sempre fornito ricostruzioni del tutto diverse, escludendo qualsiasi certezza investigativa sul coinvolgimento degli imputati. Secondo questa linea non avrebbero avuto ragioni per organizzare l'omicidio di Sartania e familiari della vittima, rappresentati dai legali Carmelo Tucci e Giovanni Lomonaco, anche in appello, sono tornati a chiedere le condanne seguendo la linea della procura generale. Così come nel procedimento davanti alla GUP alle parti civili sono stati riconosciuti il diritto al risarcimento dei danni e quello ad una provvisionale.